salve amici e amiche come andiamo spero che agosto arrivi con un poco di ferie meritate e riposo e chissà che non state guardando questo video da qualche località turistica al mare o in montagna me lo auguro così spero di portarvi anche qualche notizia fresca diciamo così dagli ultimi aggiornamenti perché sì qualcosa si muove e oggi ho notizie buone e altre meno buone da dove dovrei iniziare credo che sia meglio iniziare con le cattive così almeno quelle buone arriveranno alla fine e non ci lasceranno con l'amaro in bocca come sempre cari amici prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto i video ci sono i pulsantini di youtube per sostenermi in questa iniziativa se volete darmi una mano allora come ho accennato le brutte notizie sono piuttosto crude oggi spero di non urtare la sensibilità di nessuno ma ecco dato che non posso mostrarvi le immagini a cui mi riferisco proverò quantomeno a descriverle nei giorni scorsi dopo aver pubblicato l'ultimo video ovviamente sono stato martellato da una marea di commenti di persone che evidentemente non hanno capito che questa guerra sta distruggendo la russia dall'interno che ci sono centinaia di migliaia di soldati mandati a morire senza senso e sono queste persone che rifiutano le notizie che arrivano dai telegiornali persone che credono che la russia sia sempre la più forte e sta vincendo guidata da un grande leader con i soliti discorsi da imbecilli che napoleone e hitler non sono riusciti a vincere in russia e magari dovrebbero rendersi conto che oggi nessuno ha invaso la russia ma il contrario e anzi se la russia fosse stata invasa nel 2022 oggi tutta la comunità internazionale sarebbe lì a supportarla quindi non credo che avere una visione così distorta della realtà sia proprio legittimo per invertire così tanto il ruolo delle parti perché è l'ucraina a essere stata invasa e si sta difendendo e fra l'altro lo sta facendo piuttosto bene ma dire una cosa del genere comunque non rende per niente l'idea di quello che sta succedendo poi realmente sul campo in questi giorni sono arrivati moltissimi video di quello che sta accadendo per esempio in queste aree vicino a chafik yar dove i russi cercano di attraversare il fiume non posso mostrarvi le immagini come ho detto ma quello che si vede e che succede è che ci sono i classici due o tre soldati russi che cercano di attraversare con dei barchini improvvisati o meno quello che riescono a trovare che galleggia per attraversare il fiume e poi chiaramente vengono presi di mira dai droni e gli uomini vengono colpiti in modi orribili finiscono in acqua che si tinge di rosso intorno a loro quello che ho visto qualcuno che ho visto riuscire a sopravvivere poi raggiunge la riva si trascina per poi essere finito nei secondi successivi da altri droni alcuni disperati cercano di porre fine alla loro vita con le armi in dotazione o con delle granate che hanno questa scena l'ho vista molte volte fra l'altro poi ho visto una fila di soldati che camminavano in un campo arriva il primo drone che ferisce uno di loro e si accascia a terra voglio dire non sembrava neanche così grave ma gesticola al suo compagno che gli sta camminando incontro tranquillamente non è che gesticola con due dita alla tempia allora il compagno si ferma giusto un secondo vicino a lui alza il fucile e lo finisce e poi continua a camminare come se niente fosse e poi ci sono altri soldati da soli nei campi che quando la vedono arrivare un drone preferiscono usare il fucile contro se stessi altri li vedi rannicchiati in dei buchi non riescono neanche a muoversi perché sono feriti e aspettano così il prossimo drone che lo finisce poi ho visto questa scena dove ci sono tre soldati russi che trasportano un ferito su una barella ma decidono di abbandonarlo sul cerchio della strada e continuare a camminare insomma queste immagini sono molto crude e ho letto delle testimonianze che dicono che i feriti non vengono curati se hai qualcosa di più di un piccolo graffio insomma per te è la fine e ci sono dozzine di altri video come questi che raccontano di questa guerra assurda in cui non vedi nessuno spirito di fratellanza fra soldati russi qualcuno accenna giusto una preghiera ogni tanto prima di morire ma questo è tutto insomma l'impressione che si ha è che sembrano come degli zombie dei pazzi che camminano in un campo senza coscienza di se stessi non si curano delle mine a terra e corrono perché sono così terrorizzati dai droni che insomma ho detto ho descritto quello che succede personalmente ho seguito tanti conflitti nella mia vita a partire dalla guerra dalla prima guerra del golfo non ho mai visto niente del genere in vita mia la fine di questi soldati è qualcosa che è completamente diverso da qualsiasi altra guerra che abbiamo visto finora dove c'erano degli scontri a fuoco quantomeno in questo caso non ci sono neanche quelli e non vi ho detto tutto ovviamente cioè perché non posso farlo su questa piattaforma ma io spero che le immagini che ho visto io arrivino in qualche modo anche al cremlino me lo auguro perché queste morti devono finire sulla coscienza delle persone che hanno inviato questi soldati in questa assurda guerra di invasione insomma i russi stanno andando incontro a un massacro ovunque lungo il confine ma in alcune aree riescono anche a guadagnare più territorio e da ieri a oggi sono riusciti a stabilirsi per esempio nei villaggi di vesele hanno raggiunto anche zelanne e si dirigono apparentemente verso pokrov che è la prima città diciamo di una qualche utilità strategica e al momento si trova a circa 15 chilometri da loro ma lungo questa linea fra dricka e michael occhia la linea di difesa ucraina si è molto rinforzata quindi vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà perché a quanto pare l'idea che molti si sono fatti a riguardo è che gli ucraini stanno cercando di permettere ai russi di avanzare un poco per poi masterlarli dai fianchi da queste posizioni e questo era quello che riguardava diciamo le brutte notizie ovviamente dipende dai punti di vista sono brutte notizie per i russi ovviamente con un piccolo avanzamento di qualche chilometro perdono migliaia di uomini in modi del tutto atroci che finché vediamo un carro armato esplodere d'accordo si vede un'esplosione ma fidatevi vedere un piccolo drone esplodere su un gruppo di uomini non è la stessa storia insomma allora andiamo a parlare adesso delle notizie un filo migliori si segnalano alcuni contrattacchi da parte ucraina che per esempio hanno ripreso a fare pressione sui quartieri nord di new york è importante per loro almeno perché devono evitare a tutti i costi di essere chiusi in una sacca proprio qui così sono riusciti anche a respingere uno degli attacchi più consistenti da parte russa degli ultimi mesi vicino alla città di yublevar dove i russi hanno cercato di inviare una cinquantina di mezzi per conquistarla e soprattutto impedire agli ucraini di avere una roccaforte molto vicina alla linea ferroviaria che è lì vicina che è di vitale importanza per i russi soprattutto per il loro collegamento logistico fra il sud la crimea e il donbass ovviamente questo è un punto critico per quanto riguarda la russia non avendo una logistica aerea come tipica degli assetti nato o americani la logistica russa tendenzialmente si muove su rotaglia per cui questa linea ferroviaria insomma è molto importante devono cercare a tutti i costi di difenderla un altro attacco o contraattacco meglio dire ucraino si è verificato in direzione di kovalivka con il reggimento atov attacco che si è dispiegato in due direzioni supportato dal consistente fuoco dell'artiglieria e dalle operazioni dei droni fpv di questo attacco circolano alcune immagini in cui alcuni soldati ucraini sono tre o quattro non si capisce sono impegnati in scontri a fuoco diretti nelle trincee in un video di questi raggiungono le vecchie posizioni russe dove trovano una radio il cosiddetto walkie talkie la usano la attivano la usano e iniziano a comunicare con i soldati russi dall'altra parte che sono poche decine centinaio di metri davanti a loro e gli chiedono di arrendersi perché questi soldati russi sono ormai circondati ma da lì in poi non succede niente e lo stesso soldato che ha preso il walkie talkie poco dopo imbraccia una mitraillitrice pesante e inizia a sparare nella boscaglia continuando invece con altre buone notizie avrete sentito certamente dello scambio di prigionieri fra russia e stati uniti per quello che è il più grande scambio di prigionieri dei tempi della guerra fredda 24 persone in totale sono state rilasciate 16 persone secondo la casa bianca sono state liberate e sono tornate in europa e negli stati uniti tra cui c'era il giornalista del wall street journal ivan greskovic in cambio di questo 8 prigionieri russi sono stati rilasciati dalle carceri di stati uniti norvegia germania polonia e slovenia compresi due individui accusati di spionaggio questo scambio è venuto presso l'aeroporto di ancara ieri in turchia oltre al giornalista di wall street journal c'era anche il veterano della marina americana paul wellan il giornalista russo americano al suv kurmasheva e l'attivista russo britannico vladimir karabursa stanno tutti tornando negli stati uniti questo accordo di scambio era in preparazione da oltre un anno e mezzo e sembra essersi concretizzato attorno alla richiesta di mosca per ritorno di vladim krasnikov un loro agente segreto responsabile dell'omicidio a berlino di zelmikam kangoshili ex comandante ceceno che aveva fornito informazioni utili identificando alcune spie russe è considerato guardate un po tanto per cambiare considerato dalla federazione russa russa che cosa ovviamente un estremista e terrorista il presidente putin e i più alti funzionari insieme ad una guardia d'onore hanno incontrato questo omicida in arrivo all'aeroporto di mosca nelle precedenti discussioni per questo scambio di prigionieri era presente nella lista anche alexei navalny ma questo come sappiamo è stato assassinato in carcere a febbraio la sua vedova comunque oggi ha commentato con gioia per questo scambio di prigionieri comunque per tornare alle notizie del conflitto si sono sentite alcune esplosioni presso sevastopoli in crimea ma ancora non abbiamo notizie di cosa si è stato colpito quindi attendiamo le prossime ore per capire cosa è successo mentre un'altra raffineria russa è stata colpita con un attracco di droni presso omsk questi attacchi a lungo raggio avvengono grazie alle forniture di droni turche all'ucraina che gli hanno dato questo piccolo drone piccolo è quasi grande come un aereo di un ultraleggero aviazione generale in realtà è un piccolo aereo che è capace di grande autonomia è chiaro che questi droni hanno una grande capacità da un punto di vista di raggio d'azione e autonomia però questo è limitato nel senso la loro capacità distruttiva è limitata dal peso che possono trasportare proprio in relazione a questo zeneschi ultimamente ha insistito che se gli stati uniti e l'europa non daranno il permesso per utilizzare le armi fornite per colpire la russia in profondità troveranno una soluzione alternativa prodotta da loro stessi questo discorso in particolare è riferito al munizionamento a frammentazione necessario quando vuoi distruggere per esempio una grande area come un aeroporto o una raffineria un deposito petrolifero insomma non ti basta un piccolo drone un aeroplanino con un poco di esplosivo hai bisogno di una di una bomba a frammentazione quindi hanno annunciato che cercheranno di sviluppare la loro versione di questa per concludere altra notizia molto positiva finalmente abbiamo la prima fotografia di un f16 che vola sopra kiev sappiamo che sono arrivati almeno il primo è già operativo e gli altri nei prossimi giorni e questo l'avevamo diciamo annunciato il mio primo video che parla di f16 che parlava proprio di quest'estate come della dell'arrivo operativo di f16 anche se sinceramente qualche movimento strano era stato già notato nei giorni precedenti comunque ora negli f16 ne abbiamo già parlato tante altre volte delle loro capacità e ne parleremo ancora perché appunto adesso vediamo quello che faranno cioè ci saranno sicuramente dei report delle loro missioni in futuro e spero sinceramente di poterne parlare quindi insomma ho già letto dei commenti di alcuni filorussi nel mio canale in cui dicevano è ma tanto non importa quanti f16 arriveranno in ucraina verranno tutti distrutti no no ovviamente non è così che funziona nel senso le tattiche per l'utilizzo di piste vanno avanti da un centinaio d'anni non è che è un problema di adesso che le piste vengono colpite provatelo a dirlo ai tedeschi della seconda guerra mondiale dove tutti gli aeroporti della germania venivano sistematicamente colpiti quindi è naturale che quando una nazione si difende da dei bombardamenti attacchi missilistici sviluppa tutta una serie di contromisure per fare in modo che la propria aviazione possa decollare e lo fa per esempio approntando delle strade e per esempio già ai tempi della germania nazista si utilizzavano tranquillamente le autostrade addirittura le rimesse e le fabbriche degli aeroplani erano a ridosso delle autostrade gli aeroplani partivano direttamente da lì insomma tante tattiche vengono approntate proprio per evitare che gli f16 diventino dei bersagli facili al suolo come per esempio ruotare l'utilizzo delle piste tradizionali non metterli mai insieme nello stesso aeroporto e come ho detto usare anche l'autostrade soprattutto perché questi f16 le forniture di f16 all'ucraina arrivano da paesi che hanno sviluppato queste tattiche durante tutta l'arco della guerra fredda proprio perché avevano tutti i loro piani di emergenza che ruotavano al fatto che la russia avesse potuto invaderli quindi oggi quando vediamo per esempio i griffen o abbiamo visto in passato anche anche gli altri aeri svedesi come i draken o il vigen tutti questi aeri svedesi hanno sempre sviluppato la capacità di decollare e atterrare sulle autostrade e lo stesso guardo per quanto riguarda gli f16 rumeni belgi norvegesi tutti questi aerei sono stati modificati per poter utilizzare le autostrade insomma è nelle loro corde e lo faranno sicuramente voglio dire è molto più economico preparare un'autostrada che una pista e questo è quanto poi ovviamente le piste saranno sempre comunque un obiettivo sensibile questo vale già valeva già dalla prima guerra mondiale quindi normalissimo che gli ucraini lo sappiano e avranno sviluppato delle tattiche di conseguenza poi fra l'altro per quello che sto dicendo non è che dovete credermi sulla parola ci sono tante foto che dimostrano gli atterraggi degli f16 sulla tua strada in europa è una tattica normale soprattutto nel nord est dell'europa poi in questi mesi ovviamente tutti parleranno degli f16 chi più chi meno cercheranno di fare discorsi di tattiche numerici diranno e ma sono pochi che te ne servono tanti insomma credo che per parlare di questo aereo bisogna conoscerlo aver studiato per benino tutti i suoi sistemi e manuali perché insomma ce n'è tanta di tante di cose da dire sul 16 non servono mille f16 per contrastare la vks assolutamente penso che ne basteranno un'ottantina per quello che serve agli ucraini non siamo nella prima guerra mondiale dove tutto si basa sui numeri voglio dire soprattutto l'ucraina ancora oggi ha meno di un terzo dell'organico che la russia impiega eppure è ancora lì è anche una questione di tecnologia voglio dire una decina di f16 in volo continuamente con la dovuta logistica che hanno a disposizione intendo per esempio tutti gli assetti europei come awax aerei per la guerra elettronica e vr gli f16 dispongono di un potente data link che può integrarsi con tutti gli altri aerei nato che lo hanno quindi non solo saranno gli f16 ad avere la loro cosiddetta picture di bordo ma potranno utilizzare le scansioni degli altri aerei europei nelle retrovie cerco di mostrarvi un po con dei disegni quello che succederà però insomma per degli f16 che sono proiettati in avanti verso il confine con la russia alle loro spalle ci saranno dozzine di altri assetti europei che con le loro informazioni supporteranno gli f16 quindi in quest'ottica la proiezione in avanti delle f16 sarà perfettamente in grado di tenere a bada la vks che stiamo parlando di poche decine di aerei moderni come su 30 su 35 e poi tutta un enorme schiera di aerei vecchi che farà sarà un po fa come fare il tiro a piccione insomma se inizieranno a volare dei missili efficaci quindi per la russia che già fino ad oggi non ha mai avuto la superiorità aerea sul suolo ucraino proprio perché c'erano degli scudi missilistici oggi dovranno confrontarsi non solo con gli scudi missilistici ma anche con dei missili che partiranno anche da aerei in volo e quindi insomma se parliamo di questo tipo di operazioni le tattiche aeree della guerra moderna se i piloti ucraini hanno fatto tesoro degli insegnamenti di istruttori americani è nato non hanno niente che ovviamente queste tattiche non hanno niente a che fare con quello che è l'immaginario collettivo da scenario da videogiochi e dogfight stiamo parlando di qualcosa di molto più complesso insomma la cosa più semplice che potranno fare questi piloti con gli aerei che avranno a disposizione e farli ruotare per coprire il loro spazio aereo in tattiche molto semplici in realtà da un punto di vista se dobbiamo descriverle una tattica per esempio è la cosiddetta io io che consiste in una semplice rotazione e alternanza dei pacchetti cioè quando uno va verso il confine nemico l'altro pacchetto rio ritorna e quindi si crea una sorta di cerchio di rotazione in questo modo non c'è c'è sempre qualcuno che copre il confine ed è questo è questa una tattica basilare molto semplice che però è la base su cui si costruiscono tutte le tattiche successive successive e come ho detto questo si svolgerà grazie anche al fatto che i piloti di f16 ucraini non hanno bisogno di utilizzare necessariamente il proprio radar per vedere in profondità quello che succede oltre loro confine potranno semplicemente affidarsi alla potentissima rete logistica fornita dall'europa che è poche centinaia di chilometri dietro di loro e questo credetemi è un enorme vantaggio che la russia non necessariamente ha in ogni caso il più grande risultato che potranno ottenere gli ucraini con f16 per adesso sarà il dominio del loro spazio aereo che voglio dire non hanno mai completamente perso proprio perché hanno gli scudi missilistici cioè l'aviazione russa non è mai riuscita ad andare a venire nel territorio ucraino a proprio piacimento in questi due anni e mezzo ma quello che voglio dire è che riusciranno questi f16 a integrarsi nello scudo missilistico già pronto e quindi questo gli permetterà di intercettare eventuali missili da crociera e anche i famosi bombardieri vetusti dell'era sovietica che operano sul campo questo è quanto bene per oggi è tutto detto questo non mi sono dimenticato di alcune vostre richieste e prometto che ci sto lavorando ma portate pazienza perché siamo ad agosto ed è veramente un periodaccio lavorare al computer e niente fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti un abbraccio alla prossima